marano equo e le più giovani ne abbiamo una qui questa volta andiamo in olanda non mi ricordo mai emily o nicole sono due sorelle nicole loro sono nate in olanda quindi abbiamo un altro fiammingo li potete parlare olandese voi e si sono trasferiti a bruxelles hanno sempre avuto come punto di riferimento marano equo che tra l'altro mi ha ispirato una delle storie più belle perché è quello della mamma che ai figli dice se fate cattivi vi riporto a roma perché sono così felici di stare a marano equo lei ama talmente l'italia che ha cercato di tornare aveva fatto un tirocinio con l'ospedale bambin gesù quindi la sorella è restata in belgio a gents lei a roma e lavoreranno insieme nella comunicazione quindi ti do la parola buongiorno a tutti grazie per questa bellissima opportunità e marano equo è sempre stato un mio punto di riferimento sono una che viaggia molto sta sempre in giro ma marano equo è sempre stata una mia certezza e sarà perché eh innanzitutto per la famiglia eh che ho lì per la loro energia la la gioia di 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 voler stare insieme eh magari davanti a un buon cibo ehm ed è ed è questo che che mi colpisce molto e che mi fa sempre venire la voglia di tornarci a marano per la proprio per la loro energia e per le loro feste mh è un paesino sì piccolo ma talmente tanta voglia di 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 voler fare cose organizzano l'estate ehm tra teatro ehm presentazioni e e quindi è un onore per me rappresentare eh marano equo di Marano equo